Buonasera, bentrovati a tutti voi alla informazione targata Italia Mia. In apertura parliamo dell'allarme lanciato dal Ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Se non si troverà una soluzione immediata all'atavico problema dell'emergenza rifiuti in Campania ci saranno multe salatissime da parte dell'Unione Europea. Lunedì prossimo intanto il Presidente dell'Aggiunta regionale Stefano Caldoro presenterà un piano al Consiglio regionale con la realizzazione di due nuovi termovalorizzatori. Questo documento poi sarà presentato dal Ministro dell'Ambiente il 25 prossimo a Bruxelles. Sentiamo i particolari. È una vera e propria corsa contro il tempo quella che vede impegnate Napoli e l'Italia nei confronti dell'ormai atavica emergenza rifiuti. Il Ministro dell'Ambiente Corrado Clini lancia l'allarme e entro fine gennaio occorre trovare una soluzione altrimenti il rischio di una multa da 500 mila euro al giorno che durerà fino a quando non si risolverà in modo adeguato la situazione. Lunedì il Presidente dell'Aggiunta regionale Stefano Caldoro presenterà il piano che prevede la costruzione di altri due termovalorizzatori al Consiglio regionale e il Ministro Clini utilizzerà il documento il 25 a Bruxelles nel corso di un incontro specifico. Documento che sarebbe dovuto arrivare entro domenica ma che l'UE ha fatto sapere attraverso Joe Hannon, portavoce del Commissario UE dell'Ambiente, Jannes Potocnik, che accetterà anche se arriverà lunedì. A condizione che si tratti di una risposta sostanziale e concreta, non una lettera generica. Come è noto il 4 marzo 2010, la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia sul caso dei rifiuti in Campania, accogliendo il ricorso che la Commissione europea aveva presentato nel luglio 2008. C'erano anche tre giovani famiglie capresi a bordo della costa Concordia, la nave naufragata la scorsa notte a largo dell'isola del Giglio. Tre giovani coppie, tutte residenti ad Anacapri che sono state salvate da una delle scialuppe di indotazione e stanno rientrando a Capri. C'è apprezzione invece a Meta di Sorrento dove è nato e risiede il comandante della costa Concordia Francesco Schettino. I suoi familiari infatti seguono dalle notizie sull'affondamento della nave con apprezzione proprio perché soltanto dai media che hanno avuto delle informazioni. Cambiamo l'argomento. È il terzo giorno consecutivo del sit-in in piazza del plebiscito da parte dei tassisti contro la proposta del governo Monti di liberalizzare le licenze. E stamane, come era già accaduto in piazza Garibaldi, i proprietari dei tassisti sono trasformati in guide turistiche per informare tutti coloro che arrivano all'aeroporto sul perché della loro protesta. Sentiamo. Torre del Greco, benissimo. Allora può prendere l'alibus, il biglietto si fa a bordo, giù alla stazione, alla prima fermata che fa, circume su viana e va a Torre del Greco. Ci dispiace per il disagio che vi stiamo creando. Tassisti trasformati in una sorta di guida turistica. All'aeroporto di Capodichino, come alla stazione di piazza Garibaldi a Napoli, accolgono i clienti spiegando le ragioni della protesta e invitandoli ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi. Garantiscono corse gratuite per i disabili e i cardiopatici, ma per gli altri non sentono ragioni. Il servizio è sospeso ad oltranza. Non si ferma la reazione dei proprietari di licenze e taxi contro la proposta del governo Monti di liberalizzare il settore già in crisi, visto l'elevato numero di vetture in circolazione. Qua siamo quasi più di 800 macchine in più, in base alla popolazione. Siamo uno, praticamente posteggi pieni, i vigili rupani sono costretti a cacciarsi dai posteggi che noi siamo macchine in servizio. Tutti i giorni succede questo, in qualsiasi posteggio della città. Quindi non vedo l'esigenza della liberalizzazione. Intanto, Piazza del Plebiscito è letteralmente invasa da automobili bianche, con gli autisti che stanno continuando a tenere in piedi un presidio permanente che andrà avanti ad oltranza. L'antica orologeria Trucchi in piazza Trieste e Trento è stata svaliggiata questa notte da ladri che sono entrati nelle fogne praticando un foro nel pavimento. Sono tratti orologi di marche preziosi, ma il bottino è ancora da quantificare. L'allarme è stato dato poco dopo le 9.30 dal titolare dell'orologeria che si era recato ad aprire il negozio ed ha trovato alcune vetrine infrante. Nella facoltà di giurisprudenza si è svolto un convegno dal titolo Politica e Magistratura. Sul tema si sono confrontati i vertici della magistratura e dell'avvocatura, dando anche origine ad un dibattito moderato dal direttore del Corriere del Mezzogiorno, Marco De Marco. Sentiamo come è andata. La magistratura e un convegno a Napoli nella facoltà di giurisprudenza, nell'occasione della presentazione del libro di Luigi Labruna con la prefazione di Alfredo Guardiano, si sono confrontati sul tema il primo presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, il preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università Federico II, Lucio De Giovanni, e i vertici di magistratura e avvocatura napoletana, insieme con i professori Biaggio De Giovanni, Giovanni Verde e Massimo Villone. L'occasione ha dato vita ad un dibattito moderato da Marco De Marco e il direttore del quotidiano Corriere del Mezzogiorno. Per il professor Labruna l'esigenza primaria è quella del rispetto tra le due istituzioni, rispetto che spesso viene tradito da una insana contrapposizione. Io credo che sia giusto dare un segnale. Il segnale deve essere quello del massimo rispetto per la politica da un lato e per la magistratura dall'altro. Rispetto che deve essere non solo dei terzi, ma anche reciprocamente, sia dei magistrati verso i politici che dei politici verso i magistrati. Il presidente del Tribunale, Carlo Alemi, con rammarico evidenzia che nonostante gli sforzi la situazione è ancora difficile. I problemi sono sempre gli stessi, di malfunzionamento della giustizia, di malfunzionamento delle istituzioni pubbliche, della pubblica amministrazione e quindi di necessità di interventi che riescono a sanare sia l'una che l'altra. Sinistra Ecologia e Libertà annuncia che domani scenderà in cento piazze della Campania per un volantinaggio contro il deputato PDL Nicola Cosentino. La destra italiana in questi anni, afferma SEL, ha punito sistematicamente la povera gente con leggi affamatrici ed autoritarie. Eppure non ha esitato con il concorso dei radicali a salvare quello che è considerato secondo le inchieste della magistratura e la referente del clan dei casalesi in Parlamento. Occorre una ribellione civile, morale e democratica, sostiene sempre SEL, in Italia. E nel mezzogiorno la campania migliore chiede pulizia e rinnovamento, un nuovo Parlamento, una nuova regione per ridare la parola ai cittadini che vogliono cambiare. E' diventato un modello anti-camorra da seguire, Raffaella Ottaviano, la prima commerciante a denunciare il giro di estorsione dei clan della Camorra ad Ercolano ed è per questo che è stata premiata dal Lanci e dalla Federazione delle Autonomie Locali. Il modello Ercolano nasce in questo negozio, di proprietà della signora Raffaella Ottaviano, la prima commerciante a denunciare il giro di estorsione dei clan della Camorra nel popoloso comune del Napoletano. Oggi la signora Ottaviano è presidente dell'associazione anti-racket, premiata dal Lanci e dalla Federazione Autonomie Locali, come modello anti-camorra da emulare. Io sono un commerciante che ha ricevuto una richiesta di pizzo, vengo all'associazione e l'associazione che fa? Accomagna la denuncia ai carabinieri, alle forze di polizia, ovunque. Per questo io dico che senza la denuncia non si può fare niente. Dai cinque membri di sei anni fa, oggi l'associazione anti-racket di Ercolano conta più di 80 iscritti, tanti commercianti che hanno seguito l'esempio della signora Ottaviano. Che alla fine si dà sempre colpa ai politici, si dà sempre colpa agli altri, si delega sempre a dare la colpa, ma noi non facciamo mai nulla. Quindi nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa anche noi. Se la senti di lanciare un messaggio a chi oggi non denuncia ancora? Il messaggio che mi sento di dare a chi non denuncia ancora oggi è quello di non avere paura perché non si sta facendo nulla di sbagliato. Ogni iscritto può contare su una rete di protezione che accompagna i commercianti taglieggiati in un percorso che parte dalla denuncia e termina col processo. E oggi nel territorio altri comuni seguono l'esempio di Ercolano. L'associazione è stata costituita a Torre del Greco, ci sono nella città di Napoli addirittura delle intere aree, piazze o strade deracchettizzate. Due malviventi armati di pistole con il volto coperto da un passamontagni hanno fatto eruzione alle 4 di questa mattina all'interno di una sala giochi di Benevento. Minacciando con l'arma il titolare della Tutto Giochi SAS si sono impossessati di circa 6 mila euro. I rapinatori sono poi fuggiti a piedi e hanno fatto perdere le loro tracce. Un'agenzia clandestina per la raccolta di scommesse è stata invece sequestrata dalla Polizia e Guardieri Spagnoli. L'agenzia Invico Giardino era gestito da un 26enne di Napoli che è stato denunciato per esercizio abusivo ed organizzazione di scommesse sportive. Beh, era già noto che i parcheggiatori di Napoli in effetti guardavano auto, moto, ma è una novità che in effetti custodissero anche i caschi, soprattutto di coloro che sulle due ruote si recano allo stadio e come si sa non possono entrare, vietato, portare il casco all'interno dello stadio San Paolo di Napoli, quanto hanno scoperto i carabinieri di Bagnolo. Un'altra scoperta invece fatta dalla Polizia Municipale di Napoli a Secondigliano, vicino ai cassonetti della spazzatura, è migliaia di buste con il timbro postale di Civitavecchia e altri uffici postali del Basso Lazio. Sentiamo perché. Dopo il fenomeno della prenotazione del parcheggio abusivo via SMS scoperta nei mesi scorsi nel quartiere Chiaia di Napoli, prende i piedi in città anche quello della custodia dei caschi a pagamento in occasione delle partite di calcio allo stadio San Paolo. Due auto parcheggiate sulle strisce blu senza grattino sono state individuate dai carabinieri della compagna di Bagnoli lungo via Cinzia, fuori grotta, con nelle vicinanze gruppi di motorine e scooter. Secondo quanto hanno accertato i militari, appartenevano a tutti i cittadini tifosi che allo stadio si erano regati in moto ai quali non è concesso portare sugli spalti il casco perché vietato. I parcheggitori abusivi partenopei hanno subito affidato l'affare in aggiunta ai 3 euro per il parcheggio del mezzo. Ne chiedono altri due per parcheggiare anche il casco in un'automobile. E un migliaio di buste con timbro delle poste di Civitavecchia e di altri uffici postali del Basso Lazio sono stati trovate dalla Polizia Municipale di Napoli accanto ad un cassonetto della lentezza urbana nel quartiere di Secondigliano. Lettere, cartelle esattoriali, citazioni, multe ed anche assegni, riscosse o da riscuote erano contenuti in due grossi bustoni di poste italiane abbandonati in piazza di Vittorio. Da primi accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale sembra che il materiale ritrovato sarebbe stato sottratto due notti fa nel corso di una rapina a un furgone delle poste di Civitavecchia. La Polizia Municipale ha effettuato l'inventario di quanto trovato e consegnato il materiale alla magistratura. Con questo è tutto, la nostra informazione si ferma qui. Un buon fine settimana a tutti voi. Intanto vi ricordo che domenica alle 8.30 del mattino e il lunedì alle 7 andrà in onda il nostro 7 News. Dunque potrete rivedere tutti i servizi e le informazioni principali della settimana appena trascorsa. Un buon fine settimana a tutti voi e arrivederci. Un buon fine settimana a tutti voi e arrivederci.